buongiorno ragazzi vediamo oggi la parte strumentale dello stacchetto che è inserito all'interno del ritornello della mia hit dj axe come potete vedere ci sono dei bemolli il si bemolle nella terza riga poi il si bemolle basso sotto la prima riga con un taglio sopra e il mi bemolle nella prima riga le note sono scritte con due trattini i sedicesimi quindi questo caso fa sol le prime due note sono da suonare velocemente mentre i due sol successivi che hanno una stanghetta sola sono due ottavi e quindi sono da suonare più lentamente poi sei sedicesimi molto veloci si bemolle sol fa sol fa sol uno quarto di pausa e ancora si ripete lo schema fa sol sol fa fa mi bemolle do si bemolle vediamo come suonarlo alla tastiera rispetto alla prima nota fa ho bisogno delle dita sulla sinistra quindi comincerò con il pollice fa sol 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 si bemolle con l'anulare la seconda parte comincia sempre con il fa ma dovrò scendere fino si bemolle basso per cui avrò bisogno delle dita alla mia sinistra e suonerò il fa con l'anulare fa sol sol fa fa sol fa mi bemolle do si bemolle per evitare questo salto tra indice e pollice posso cambiare diteggiatura e suonare sempre con l'anulare in partenza fa sol sol fa fa sol fa mi bemolle suonare il do con il pollice e scavalcarlo con l'indice sul si bemolle lo faccio rivedere sol sol fa fa sol fa mi do si e quando siete sicuri sulla diteggiatura potete inserire la base ricordate che attacca imbattere cominciamola lentamente questo è 90 3 4 1 vuoto proviamo ancora abbastanza lentamente a 90 4 colpi di anticipo attacca in battere tra la prima e la seconda parte un battere vuoto 1 2 3 4 1 vuoto e adesso sfidate voi stessi per cercare di suonarle il più velocemente possibile chiaramente in maniera sempre corretta qui siamo a 130 2 3 4 1 vuoto e adesso tenetevi forte siamo a 150 1 2 3 4 1 vuoto allacciate le cinture qui siamo a 170 2 3 4 1 vuoto esagerate andate a 190 1 2 3 4 1 ancora 1 2 3 4 e se proprio non ce la fate stare fermi vi lascio con la base a 200 200 4 fuori vuoti 1 2 3 4 fa sol 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 si sol fa sol fa sol sol fa fa sol fa mi do si ancora 2 3 4 fa sol 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 Grazie a tutti